Si terrà a Napoli sabato 30 gennaio 2016 alle ore 11 presso il teatro di Ana in via Luca Giordano al Vomero la presentazione in anteprima nazionale dell'ultimo libro della scrittrice Ornella della Libera dal titolo I nuovi casi dell'agenda speciale Blondi secondo volume delle avventure rocambolesche di un improbabile poliziotta e delle sue colleghe sgangherate il nuovo lavoro letterario di Ornella della Libera è il prosieguo di 13 casi per un agente speciale il libro dato alle stampe nel 2008 che ha avuto un grosso successo di vendite in tutta Italia per la cronaca ricordiamo che lo scorso anno il libro di della Libera ispirò una rappresentazione teatrale tenuta dagli studenti della classe seconda N della scuola media di Ischia Giovanni Scotti e diretti dal professore Domenico Castagna rappresentazione teatrale premiata a Napoli in occasione del 43esimo concorso nazionale organizzato dall'Associazione Scuola Strumento di Pace sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica grazie 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 a tutti